Buongiorno a tutti, oggi siamo qui a presentarvi la linea di motocoltivatori Bertolini. Il motocoltivatore Bertolini è una macchina adatta a tutte le stagioni dell'anno, una macchina polivalente. Andiamo a vedere nel dettaglio a chi vengono suggerite queste macchine. Abbiamo macchine per l'utilizzatore privato, macchine per l'utilizzatore intensivo, macchine per l'utilizzatore professionale. Ognuna di esse è costruita con un dedicato gruppo cambio e una selezione di motori adatta a supportare la forza degli utensili che andiamo a abbinarci. Andiamo a vedere per ogni famiglia quali sono i bisogni dell'utilizzatore. Partiamo dall'utilizzatore privato. L'utilizzatore privato probabilmente è la prima volta che approccia la terra, sta cercando comfort, ergonomia in una macchina. Ecco che per il suo nuovo orto domestico, un orto di piccole e medie dimensioni, Bertolini con il modello 400 e 401 può dare quelle che sono le giuste risposte. Un ottimo inizio per incominciare a coltivare la terra. Ora andiamo a guardare nel dettaglio l'utilizzatore intensivo. Ecco che qui la polivalenza viene prima di tutto. Il nostro utilizzatore cerca una macchina polivalente, una macchina adatta a tutte le stagioni dell'anno ma per fare anche diversi usi, non solo quello che riguarda la lavorazione della terra ma potrebbe essere lo sfalcio dell'erba, la trinciatura, lo sgombero neve, la pulizia di piazzali. Ecco che qui con i modelli 405, 407, 413 di Bertolini si trova la risposta più appropriata. Ma leggevolezza e comfort sempre ai massimi livelli, comfort anche per quanto riguarda l'ergonomia e i sistemi comando della macchina. Ed eccoci arrivati alle macchine professionali. Qui la domanda che ci facciamo è trattore o motocoltivatore? Beh, noi di Bertolini diciamo motocoltivatore. Il motocoltivatore rimane una macchina capace di lavorare dove il trattore non arriva. Fiora all'orcchiello della Bertolini sono i modelli 417 e 418, macchine che vedono le loro origini a partire dalla metà del Novecento, macchine che erano utili alla prima meccanizzazione agricola per supportare quella che erano i lavori faticosi e continuativi nei campi. Il loro equipaggiamento prevede gruppi cambio strutturati con sistemi di frizione e motori potenti sino a 18 cavalli. Macchine che offrono ergonomia e sistemi di maneggevolezza uguali e superiori a quella che è la linea intermedia della gamma motocoltivatori Bertolini. Speriamo che i nostri consigli vi siano stati utili per meglio capire quella che è la gamma dei prodotti Bertolini. La linea dei motocoltivatori, come avete visto, è ampia e offre una macchina per ogni tipologia di utilizzo. Vi consigliamo sempre di rivolgervi ai nostri rivenditori autorizzati per creare il setup macchina più adatto alle vostre esigenze. Bertolini, da cent'anni al vostro fianco.